Welcome to Zoom, un'Eye on the World, cities, traditions, archaeology, people, nature and fascinating facts brought to you from around the world. Cracovia è stata la capitale della Polonia fino alla fine del XVI secolo, quando la capitale venne spostata a Varsavia. Al giorno d'oggi, Cracovia è la quarta città della Polonia, ma tutti i polacchi la considerano la capitale culturale del paese. La famosissima Università Iagellonia, il castello di Wawel e una delle più grandi piazze antiche d'Europa, sono tutte contenute in uno dei meglio conservati centri storici d'Europa. La città vecchia di Cracovia è diventata un monumento mondiale preservato. L'arte e la cultura sono di casa, lo si avverte passeggiando negli stretti vicoli del centro storico, ricco di sontuosi palazzi e residenze di nobili e principi. Si ha la stessa sensazione passeggiando nel quartiere universitario, il più antico della Polonia e tra i più antichi di tutta Europa. Qui hanno studiato Copernico, Karol Wojtyla, la poetessa Zimbosca premiata con il premio Nobel per la letteratura nel 1996 e altri illustri studiosi che le hanno fatto guadagnare l'appellativo di Atene Polacca, come veniva chiamata nel Cinquecento. Tra gli altri appellativi vi è anche Roma del Nord, a causa del gran numero di chiese e monasteri che si trovano all'interno del centro storico, oggi interamente pedonale. Seguendo la direttrice che porta nel centro città, si viene sorpresi dall'apparizione del castello del Wabel. La collina del Wabel è uno dei gioielli polacchi e da secoli è occupata da un complesso che ospita alcuni edifici importantissimi. La leggenda della fondazione della città narra che proprio in questo punto, sulla collina Krakus, dominante una piccola ansa della Vistola, il leggendario Krak, principe e capo di una tribu slava, uccise con uno stratagemma il terribile Drago che imperversava nel villaggio poco distante. Tale villaggio si sviluppò successivamente nella città che conosciamo. Grazie a tutti. All'interno del Wabel si trova un altro grande richiamo storico architettonico, la gotica cattedrale di San Venceslao. Le forme esterne lasciano intuire la complessa storia di questa costruzione, risultante da molte ricostruzioni e annessioni di precedenti chiese. La cattedrale ha fatto da cornice per secoli ai principali avvenimenti delle casate reali polacche, incoronazioni, matrimoni, funerali. Per questo motivo l'interno ospita i tumuli di Regnanti e dei rispettivi familiari e altri capolavori. Non si può certo dimenticare che nel 1964 Karol Wojtyla venne nominato arcivescovo metropolita di Cracovia, insediandosi nella cattedrale del Wabel. Il futuro Papa Giovanni Paolo II segna inevitabilmente la storia della città. Con la sua salita al soglio pontificio, Cracovia diventa la città del Papa, in anni in cui gli equilibri politici tra est ed ovest iniziano a sgrettolarsi con la caduta del muro di Berlino. Il successore del Papa a Cracovia, Cardinale Glemp, segue le orme di Wojtyla. Le parole che giungono dall'arcivescovado di Cracovia diventano per la Polonia e per gran parte dell'est europeo in fermento un vero e proprio punto di riferimento. Sono, in qualche modo, gli anni del rinascimento di Cracovia. La vecchia capitale polacca tornò a far sentire la sua voce, dando una spallata, forse determinante, al crollo del muro di Berlino. You've been watching Zoom, an eye on the world. Hope to see you again soon.